A te Roberta Ma ciao carissimi studio, oggi direttamente dal Lido di Avola Una splendida spiaggia, andiamo ad intervistare immediatamente qualcuno che prima non si voleva far intervistare Invece eccoci qui, ciao caro il tuo nome Ciao Jonathan Jonathan, i piaceri della vita Beh sicuramente spiaggia, sole, mare Ambedi, io lavoro, i piaceri della vita Eh, lo stesso Lo stesso no, cambia Boh, belle ragazze E lei? Ciao Alessandro Eh, star bene Star bene, perché come stai? No, ora voglio Sto bene Perfetto, quindi piaceri della vita, azzeccato E per canale Otto on the beach, una splendida sirena Ciao cara, il tuo nome? Cedardina Da dove vieni? Montella Ti piace questa splendida spiaggia? Bellissima E allora dimmi una cosa, i tuoi piaceri della vita, quali sono? Il mio amore Dai È davvero romantica E allora prima ancora di conoscerlo, il tuo piacere della vita qual era? Il divertimento, il mare Adesso ci siamo sistemati, ci siamo rilassati Perfetto, è geloso? No, assolutamente Tu lo sei? No Fingi? Assolutamente Ciao, buona vacanza I piaceri della vita Il mangiare è la bella vita Però si vede, quindi era un tipo da panciotto, bella panza, bella sostanza Ma insomma, esatto Viva il mangiare E le vacanze Ciao Ciao Qui c'è qualcuno che vuole querelarci se noi andiamo presso lei, guardala, 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 ma noi la avvecchiamo Allora, qual è il suo piacere nella vita? Il piacere della vita, secondo lei, ma qual è? Il mio figlio Ed eccoci qui Una fantastica sirena E un fantastico balenotto L'abbiamo detta Ormai l'abbiamo fatto vergognare Buongiorno, il suo nome? Umberto Pina Due fantastici sposini Signora, quali sono i piaceri della vita? Ma viaggiare, ad esempio O non assoluto, quello che lei ritiene il piacere più bello nella vita? Ma non saprei, la salute La salute E lei? Viaggiare Non è vero, ma ha detto prima mangiare e ora si è vergognato Non è giusto E la signora ci chiede aiuto, tranquilla, signora, siamo di Canale Otto on the Beach L'abbiamo vista così bella roscia Sia ai capelli, sia su tutto quanto il suo corpo risplende il colore rosso Abbiamo deciso di intervistarla, il suo nome? Veronica Da dove vieni? Alessandria Sei qui in vacanza, eh? E allora dicci una cosa Qual è, secondo te, il vero piacere della vita? Stare in vacanza Già, e perché lo sei, però in generale? Piacere della vita Eh, ce ne sono tanti di piacere Uno in particolare I figli Grande, ne hai qualcuno? Splendido, ciao grazie Ciao Qual è il piacere più grande nella sua vita? Mangiare, divertirsi Ah, mangiare, divertirsi Quindi lei è un tipo più da bella panzetta anziché addome scolpito No, non tanto Si tiene in forma, comunque va in palestra No, palestra no, ma mi so controllare Ah, quindi mangia poco Mangiare poco Perfetto, grazie mille Prega Prega Prega